Ed eccoci di nuovo in studio, grazie per continuare a seguire Mattina 9 ed accettare che ancora io vi parlo, starò zitto tra pochissimo perché l'argomento che trattiamo è importantissimo. Siamo in compagnia del professor Francesco Orio che opera tra Salerno e la partenope di Napoli ma è sempre in giro per l'Italia ed è un endocrinologo di fama internazionale e una nostra amica ci è tornata a trovare, la dottoressa Adriana Carotenuto che è una biologa nutrizionista. Adesso vi spiegheremo perché sono insieme, perché ci sono delle patologie dell'apparato sessuale femminile che sono studiate dal professore e il suo staff che hanno molto a che fare con il modo di mangiare sia per quanto riguarda la fase di prevenzione che è di quella della cura. Allora professore, le donne soffrono, il mio microfono ci sente, le donne soffrono ma c'è una malattia particolare che lei ha studiata a fondo. Sì, detto bene, sessuale io mi permetto di aggiungere di pertinenza endocrino-ginecologica, questo confine sempre mai netto e demarcato. La malattia alla quale lei accennava è la cosiddetta sindrome dell'ovaio policistico che potrebbe apparire immediatamente una patologia di pertinenza del ginecologo. In questa breve chiacchierata cercheremo di dimostrare che non è proprio così perché è la prima causa endocrina. Quando si parla di endocrinologia è qualcosa che riguarda gli ormoni. Che cosa sono gli ormoni? Sono questi trasmettitori, trasmettitori messaggeri che portano questi messaggi in tutto il nostro corpo e messaggi importanti. Per ritornare alla sindrome dell'ovaio policistico è la prima causa endocrina di infertilità femminile ma non è solo una patologia che riguarda l'aspetto della fertilità ginecologica, anzi è una patologia che riguarda il metabolismo. Perché? Perché oltre ad avere nelle sue caratteristiche fondamentali l'eccesso di androgine, quindi gli ormoni, che sono gli ormoni sessuali maschili, che nelle donne non dovrebbero quindi essere alti, ha un ormone fondamentale che è l'insulina. L'insulina come noi tutti sappiamo regola l'ingresso dello zucchero nelle cellule e quindi è quell'ormone che quando manca si ha il diabete. E allora potrebbe, così potrebbe sorgere la domanda spontanea cosa c'entra tutto questo? C'entra perché in questa patologia, ecco perché endocrina, si hanno i livelli di questo ormone, l'insulina alti, la cosiddetta insulina resistenza e quindi per venire all'aspetto poi pratico, quello che interessa un po' a tutte le telespettatrici e telespettatori anche perché è una patologia che dà delle problematiche sul ciclo mestruale al primo posto e si pensi che rappresenta appunto la prima causa anche dell'irsutismo che è questa parola complicata che poi in effetti descrive dei peli in eccesso laddove i peli nelle donne non dovrebbero esserci. E così come dà luogo poi tra le complicanze alla ridotta tolleranza ai carboidrati ossia l'iperglicemia, cioè proprio il diabete, quello che dicevamo poc'anzi. Qui entra in ballo la biologa nutrizionista perché con la giusta, la corretta alimentazione si può dare una mano, non a guarire perché ci pensa il professore, ma a rendere migliore le condizioni di vita di queste donne. Innanzitutto di che cosa soffrono? Allora sicuramente attraverso l'alimentazione è possibile prevenire e comunque aiutare queste queste donne che appunto come diceva il professore soffrono di sindrome metabolica quindi hanno un insulino resistenza, generalmente hanno un aspetto un po' più androide che ginoide cioè le donne normalmente accumulano nella stragrande maggioranza dei casi adiposità nella regione trocanterica, quindi nella regione dei glutei, delle cosce. Questo tipo di donna che soffre di questa patologia molto spesso accumula grasso nella zona addominale, quindi un po' più simile al sesso maschile, proprio per la presenza di questi ormoni sessuali maschili, come diceva il professore. Quindi dal punto di vista alimentare sicuramente cerchiamo di basare una dieta sullo schema mediterraneo, non a caso proclamato patrimonio immateriale e culturale dell'umanità nel 2010, cercando di avere un indice glicemico basso. Però qui vorrei fare una specifica, nel senso che l'alimento a basso indice glicemico, che ormai è diventato quasi una moda, va bene, ma bisogna prestare attenzione al carico glicemico dell'intera giornata rispetto all'alimentazione. Quindi sicuramente una dieta equilibrata, sicuramente una dieta con un basso carico glicemico e quindi ad esempio mangiare un piatto tipico della dieta mediterranea come dei cereali integrali con dei legumi, potrebbe essere un piatto con un basso indice glicemico, con un buon pool proteico che può rappresentare la dieta mediterranea ma anche un carico glicemico basso. Quindi comunque la sana alimentazione a prescindere fa bene. Professore, ma si può guarire da questa patologia o bisogna controllarsi per tutta la vita? Si può guarire, rispondo alla sua domanda, sicuramente questa è una patologia che dà diversi segni e caratteristiche e quindi è un po' la cosiddetta terapia fatta su misura, sartoriale, quella che noi utilizziamo anche per il diabete, perché a seconda se la donna sarà più giovane o meno giovane o avrà desiderio di gravidanza oppure avrà problemi di acne, ricordiamo l'altro segno, o di irsutismo. Mi piace ricordare a quanto diceva la collega sulla cura, sulla terapia. Basti pensare che il 50% di queste donne, adolescenti o anche meno giovani, sono obese e quindi la prima terapia, questo anche il mondo dell'accademia, della ricerca scientifica, anche anglosassone ha posto i cosiddetti interventi e lo stile di vita al primo posto nella cura di questa sindrome. Il nostro gruppo di studi è stato il primo, proprio come ricordava la dottoressa, a dimostrare come un buon approccio con una dieta mediterranea risolve delle problematiche, diversamente da quello che ahimè talvolta qualche collega fa, ossia imbottisce queste giovani donne di ormoni. Quindi bisogna fare attenzione, il mio motto è che gli ormoni fanno tanto bene quando sono necessari, ma ahimè fanno male e fanno danni, se ad esempio li assumiamo noi che non ne abbiamo bisogno. Giustissimo, dottoressa Carotenuto, queste donne che vengono da lei sono anche provate psicologicamente, non solo dalla sofferenza ma anche da questo mutamento estetico, quanto occorre per riportarle ad una condizione in cui magari si accettano di più? I tempi ovviamente sono strettamente correlati al grado di sovrappeso e o obesità che hanno queste donne, quindi non si può parlare di tempi in maniera generica ma dipende dal singolo soggetto. Certo ci sono tecniche più o meno veloci, esiste una dieta particolare che è la dieta proteica che ovviamente viene fatta sotto stretto controllo medico, quindi nei nostri ambulatori unicamente in equip e se la paziente viene eletta per poter aderire a questo protocollo e cioè risulta i suoi parametri matochimici sono in linea con la possibilità di praticare questo protocollo, è possibile avere una riduzione della circonferenza addominale e quindi anche del sovrappeso e quindi una perdita di peso anche molto più veloce rispetto alle diete tradizionali. Ovviamente sono trattamenti medici per cui non vanno confusi con delle diete che vengono prese ormai da tutti i tipi di siti internet ma se fatte bene sotto controllo medico possono portare al paziente un miglioramento soprattutto psicologico perché perdono peso in pochissimo tempo, riescono ad avere un effetto anoressizzante, stanno bene psicologicamente per tutta una serie di motivi metabolici e per tutta una serie di motivi biochimici che si scatenano durante questa terapia perché è una terapia, dopodiché ecco l'intervento del nutrizionista che deve riportare però questi soggetti a un'alimentazione normale inserendo e reintroducendo tutti i macronutrienti nelle giuste quantità quindi carboidrati, proteine, grassi. Professore, prego dica perché poi ho una domanda. Quello che dice la collega perché mi piace anche ricordare il primo medico per eccellenza nel IV secolo a.C., Ippocrate, diceva primum non nocere e questo mi dà spunto a quanto punto diceva la collega perché l'approccio per questo tipo di terapeutico, quindi risolutivo per questo tipo di patologia come dicevamo prima non è sempre o meglio troppo spesso e in modo troppo semplicistico viene regolato con la somministrazione degli ormoni cosiddetto contraccettivo agli estroprogestinici invece esistono come esempio si è parlato della dieta mediterranea, si è parlato della dieta chetogenica altre possibilità appunto di approcci tra virgolette molto innocui e molto risolutivi ebbene anche degli integratori che vengono utilizzati con dei risultati talvolta addirittura superiori o sovrapponibili a quelli degli ormoni uno su tutti è l'inositolo, soprattutto il mio inositolo che è uno zucchero che noi praticamente produciamo e che risolve spesso questi piedi in eccesso, regolarizza il ciclo mestruale e migliora talvolta anche la fertilità quindi prendendo proprio spunto dai vari approcci di regime alimentare è importante ricordarci le possibilità terapeutiche quindi c'è un ritorno alla piena forma mi fa piacere ma soprattutto professore io me la voglio spendere tutta lei ha portato una notiziona per me quindi voglio dire proprio un concetto nuovo di approcciarsi a questa patologia affrontandola insieme alla nutrizionista, insieme naturalmente in alleanza con tutti i ginecologi ma soprattutto con un approccio nuovo, quello dell'endocrinologo lei ovviamente è un professore, lo insegnerà ai suoi studenti ci sono anche delle pubblicazioni che lei fa dove è possibile attingere a queste notizie mi fa piacere che lei mi dà questo spunto perché è dimostrato nella letteratura medica scientifica che è quello poi un po' che dà l'indirizzo non solo sulla diagnosi ma soprattutto sulla terapia che è quello che poi interessa ovviamente alle nostre pazienti, a tutte le donne è fondamentale ricordare che questa scienza va sulla linea anche dell'attività fisica oltre che dell'approccio dietetico, come dicevamo prima, modifiche di stile di vita basti pensare che un'attività fisica regolare di tipo aerobico cioè quella che si fa bruciando ossigeno, ossia la classica corsetta la camminata a passo svelto, la cyclette, 40-45 minuti con un protocollo appunto dimostrato scientificamente per 5-6 giorni a settimana, oltre a far perdere peso migliora i tassi di fertilità, di ovulazione quindi come diceva lei è supportato dalla scienza non è una cosa abbastanza inutribile soprattutto professore ci lasciamo con una buona notizia perché il nostro tempo a disposizione è scaduto il professor Francesco Orio, se lo volete incontrare non vi dico, ho il suo telefonino, ve lo dico in privato la professorista Carotonuto che ha studi in varie città della nostra regione Caserta-Salerno ma ha la possibilità di incontrarvi qui a Napoli presso il centro dove c'è anche il professor Scaramuzzino che ci è venuto a trovare quindi voglio dire, tutto è possibile comunque contattateci attraverso il numero di telefono la mail e io sono orgoglioso oggi di aver dato una notiziona oltre che aver fatto una giusta divulgazione scientifica grazie professor Orio grazie dottoressa per aver ottenuto noi ci rivediamo presto adesso c'è la pubblicità